Il treno regionale 17-7-8-8 di Trenitalia di Iper, proveniente da Pobrezza Terme, in diretto a Bologna Centrale, delle ore 21.05, è in arrivo al binario 2. Però mai tutte le stazioni e 100 motelli o meravigli. Attenzione, avrò sanarsi dalla linea Giasta. Poi, scorso 2008, no, perché si gioca in contemporanea, non è vero, a meno che non sia scorificato, non è vero, 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 è vero. Sì, perché, non è vero, non è vero, è vero, è vero, è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.